In Chiostro Creativo parliamo di Expo e dopo Expo. Siamo con Lorenzo Pallotta di Arexpo, maggio 2016, un anno dopo l'apertura dell'esposizione. Che cosa succede e cosa sta succedendo nell'area di Expo? Ci siamo, molte cose, un anno dopo Expo. Il tentativo è quello di dare una nuova vita a quest'area. Sicuramente non si riapre Expo perché è un'occasione, un'esperienza unica. Non ci saranno più i padiglioni di paesi, quindi forse meno architettura, ma anche più contenuti. Un'area aperta al pubblico con manifestazioni di interesse, cultura. Una parte della ventunesima triennale si insediera lì, stanno lavorando in questi giorni, in queste notti, con gli stessi ritmi di un anno fa per riaprire. Un interesse che si riapre anche per investitori. Ci sono già molti player in gioco, anche sul futuro lungo dell'area che darà questa gestione. Ne citiamo qualcuno? Beh, diciamo, c'è sicuramente questo grande progetto del campus della Statale, un nuovo campus, quindi diciamo 2020, una grande infrastruttura di sapere, di ricerca. C'è l'IT che ha manifestato l'interesse ed è questa, diciamo, cluster di innovazione, di ricerca, incomincia già a brevissimo, a mettere in valore. Dopo un anno, questo è grandissimo investimento pubblico, questa piattaforma. In mondo della progettazione si chiede che cosa c'è in campo, quindi ci sono delle opportunità per il mondo della progettazione, per il mondo delle costruzioni nei prossimi mesi? Beh, direi che adesso Arexpo si sta riconfigurando, come sapete, ci sono i soci che stanno in qualche modo fondando questa società con questa nuova mission che è strabica perché si occupa del presente, quindi con questa innovazione, di questa riapertura, ma anche con gli investimenti duraturi per la città di Milano.